Buongiorno a tutti, mi dispiace tanto perché non posso venire oggi e essere con voi, sono con la nazionale e in questo momento sono in Lossia. Voglio condividere con voi una bella notizia che rimango anche prossimo stagione, un po' in caso maggiore. Sono contenta di essere con voi anche nel mio quinto anno e spero che divertiamoci insieme e vi aspetto tutti anche la prossima stagione in Pallaradi. Ciao, ci vediamo! E adesso non è finito?